Saluti a tutti. In questo video voglio condividere con voi l'incredibile commento di uno dei nostri fan, ma aspetto sicuramente i vostri mi piace e commenti. Ebru Shahin è bellissima come sempre. Continuo a sognare una serie di successo con Ebru Shahin e Jan Yaman. Ken è il simbolo della mascolinità e Ebru è il simbolo della femminilità. Sarebbe un'esplosione di bellezza. In effetti, Ken è stato di recente in Brasile e ha avuto un grande impatto tra le donne. Loro lo amano. Grazie a tutti.